Lo stilista libanese Tony Ward si è trovato di fronte ad un risultato sbalorditivo dopo aver versato, per sbaglio, una goccia di silicone su un taglio di tulle. Ed è così che parte una nuova avventura per questa nuova collezione primavera-estate 2013. Rosa, azzurro, pallido, bianchi e neri sono i colori per abiti che invece di cuciture e tagli, sperimentano iniezioni di silicone che rende le sfumature polichromi, qualcosa di più sottilmente delicato e più intenso, su cui incollare pietre, perle e schwarosche che rendono i capi semplicemente strepitosi per trasportarci in un mondo rutilante di colori, di ricami, di pietre lucenti, di tessuti più leggeri di un sospiro, più avvolgenti, più resa.